Nuovo appuntamento con la rubrica Talent Arbor qui dalla centrale dell'acqua di Milano in piazza Diocleziano, la rubrica che come ormai sapete è dedicata alla ricerca, ai ricercatori italiani in Italia e non solo rubrica che facciamo in collaborazione con il mensile Le Scienze. Oggi con noi, sono molto lieto di averla, Roberta Bianchini che è ricercatrice da poco più di un anno all'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone che è in sede al CNR di Roma. Benvenuta, benvenuta Roberta. Ciao a tutti, grazie Pietro, grazie per l'iniziativa, penso che sia una cosa molto carina, grazie. Ti ringrazio io, anche noi pensiamo che sia davvero una bella iniziativa, stiamo scoprendo davvero dei talenti e quindi ne siamo molto lieti. Allora Roberta, anche nel tuo caso, la prima domanda che vorrei farti è di raccontarci un po' qual è stato il tuo percorso professionale, come sei approdata, dicevamo ormai più di un anno fa, al novembre del 2019, al CNR e in particolare nella sede di Roma dell'Istituto per l'Applicazione del Calcolo, che già ci dice molto su quello che fai, ma dopo un passato ovviamente di una laurea in matematica, di un dottorato, di contratti postdoc in giro per l'Europa e non solo. Insomma, raccontaci un po' di te. Sì, allora, io ho cominciato con una laurea triennale e magistrale alla Sapienza a Roma, che è finita nel 2014, poi ho deciso di fare questo percorso del dottorato di ricerca, che è una cosa che in realtà non avevo già programmato, ho scoperto di aver piacere nel fare ricerca grazie alle interazioni che ho avuto col mio relatore durante la tesi magistrale. E quindi ho iniziato questo dottorato a Torbergata e già in collaborazione con il CNR, perché il mio relatore è all'interno. Finito il dottorato, tre anni dopo, sono dovuta andare fuori. Dovuta perché sì, è una cosa che ho fatto con piacere, però d'altra parte c'è stata anche una spinta di motivazione dovuta alla carriera. Insomma, sono una persona a cui piace stare a casa, quindi è stato molto bello, però è stato anche un buon sforzo. E sono stata contentissima di averlo fatto, sono stata quindi in Francia. Sono stata in Francia per due anni e mezzo, quasi tre. Sono stata un anno e mezzo a Lione, all'Ecole Normale, dove ho fatto un postdoc molto interessante. Ho cominciato anche a cambiare un po' di direzione di ricerca, sempre nella stessa macroarea, però insomma sono cambiate un po' le direzioni. Ed è poi, diciamo, la direzione che attualmente mi occupa la maggior parte del tempo. E poi questo progetto è proseguito in maniera molto naturale a Parigi, alla Sorbona, dove sono stata per altri nove mesi circa. Dove ho fatto appunto un altro postdoc, che è stato interrotto all'improvviso in qualche modo, perché appunto ho vinto questo posto e sono stata felicissima di tornare. Quindi sono tornata circa un anno e mezzo prima del previsto. E quindi niente, adesso sono qui da aprile. In teoria sarei dovuta rimanere un po' di più a Parigi, però per motivi che conosciamo sono tornata un po' prima. Sono tornata a marzo. Li conosciamo fin troppo bene, il motivo per cui non sei qui con noi, ma dobbiamo fare queste cose da distanza. Ma contiamo presto di vedervi tutti da vicino, magari riusciamo a fare un evento tutti insieme. Senti, l'hai accennato, ti chiedo di entrare più nello specifico di quello di cui ti occupi. Per noi, che stiamo da questa parte dello schermo, quando si sente parlare di matematica, ti assicuro, iniziamo a concentrarci molto bene per non perderci tutti i passaggi. Per quel che riesci, spiegaci con parole semplici, ma non banali, senza banalizzare nulla. Qual è l'oggetto della tua ricerca, di che cosa ti occupi? Allora, io in generale mi occupo di studiare l'equazione delle derivate parziali, sono queste equazioni, insomma, che rappresentano, modellizzano dei fenomeni in natura, con metodi diversi. Insomma, adesso non sto a parlare di queste cose in dettaglio, non è poi così importante. Però, insomma, le cose di cui mi occupo, diciamo che sono tutte intorno a quel che si chiama meccanica dei fluidi. In particolare, in questo periodo, mi occupo di fluidi stratificati incomprimibili. Adesso questo termine è un po' tecnico, però si può pensare all'oceano, che è un fluido stratificato incomprimibile. E ci sono quindi delle equazioni, insomma, vari modi di approssimare, a seconda del fenomeno, che studio in maniera qualitativa, nel senso che cerco di capire, dal punto di vista qualitativo e anche in alcuni spazi, qual è l'andamento delle soluzioni. Questo perché non sono dei sistemi che si possono risolvere a mano, a meno che uno non si mette proprio in casi particolari, non ci sono delle tecniche per trovare soluzioni esplicite, tipo formula. Allora, quello che faccio è, con carta e penna, cerco di utilizzare i miei strumenti per, appunto, scrivere e mettere giù dei teoremi, che mi garantiscono degli studi, appunto, che mi fanno capire un po' quello che succede. Posso, in alcuni casi, ci occupiamo di cercare di descrivere matematicamente dei fenomeni che si vedono in natura e vengono riprodotti, per esempio, in laboratori dei fisici. E cerchiamo di tradurre veramente il linguaggio matematico quello che succede. Se ho compreso male, quindi, Roberta, si tratta di scrivere una formula matematica che in qualche modo descriva e preveda, ad esempio, una massa d'acqua che si muove dentro una scatola, per dirne una, o addirittura dentro una stanza? Ma l'equazione, per esempio, che studio, si chiama l'equazione di Businas, un esempio è la pentola dell'acqua che bolle. Quindi, sì, molto. Poi, ovviamente, ci sono, insomma, dei motivi per capire queste cose relativamente semplici. Ci sono anche dei problemi molto più importanti, in cui la matematica può servire per aiutare anche il percorso dei fisici, in qualche modo. C'è un'interazione. Matematica, analisi, analisi numerica, meccanica di fluidi è un settore in cui veramente l'interazione fra le discipline diverse è fondamentale. Per quanto riguarda il fatto di predire, questo è un verbo interessante, perché in realtà in meccanica di fluidi c'è una cosa che si chiama teoria della turbolenza, che è proprio, diciamo, una situazione in cui il fluido ha un comportamento caotico e la previsione non funziona più. Ed è uno dei motivi fondamentali, diciamo, uno delle direzioni di ricerca fondamentali a cui si dedicano diverse persone in diversi ambiti, ingegneria, matematica, fisica, tutti insieme, per cercare di capire delle cose che attualmente nel 2020 ancora non sono chiare. delle domande, insomma, che potrebbero sembrare, potrebbe sembrare anche strano che non ci sia risposta in un mondo in cui, insomma, tutto sembra semplice, no? Con un click delle app si fa tutto, invece queste cose sono ancora oscure. E invece basta un'onda di un oceano per mettere in crisi anche i più potenti computer. Però l'hai accennato, molto del tuo lavoro si fa con carta e penna. Raccontaci un po' come si svolge la tua giornata lavorativa di ricerca. Come ci ha detto qualche tuo collega e tua collega, molto spesso si tratta di trovare, cercare tutto il giorno una soluzione che non arriva e quindi giornate anche molto faticose. A volte invece si tratta di avere quel guizzo che dà grandi soluzioni. Però appunto mi pare che ci sia un interessante, come dire, connubio tra la riflessione, appunto, carta-penna e poi immagino gli strumenti informatici e computazionali. Certamente gli strumenti di analisi numerica, per esempio, sì, sono fondamentali. Poi dipende dagli argomenti, diciamo. In alcuni casi è vero, dipende. Io, diciamo, mi occupo di questi fluidi e ci sono alcuni problemi in cui veramente passiamo il tempo, non solo con la carta e penna, io sono una persona che collabora con parecchie persone, anche in questo periodo attraverso Skype e attraverso Zoom, come adesso. Quindi passiamo il tempo lì a cercare di trovare anche dei modelli. Il problema può sorgere anche prima. Certe volte si partono dalle equazioni, a quel punto io mi metto lì con carta e penna, utilizzo i miei metodi, decomposizione di Fourier, analisi, spettrali, insomma, vari metodi che mi permettono di almeno capire. In alcuni casi semplificati si parte da lì, in alcuni esempi semplici quello che accade, poi aggiungo, insomma, difficoltà e cerco di capire. Poi spesso ci vogliono mesi per arrivare a capire qualcosa di sensato, però, insomma, il procedimento è più o meno metodico. In altri casi, se invece ho in mente già un fenomeno, che per esempio è stato descritto dai fisici che vorrebbero capire come si rappresenta matematicamente, allora magari sto lì anche mesi a parlare con altre persone e cercare il modello che può più o meno rappresentare e lì, insomma, poi arrivare veramente a descrivere tutto il fenomeno che loro vedono. Per esempio, abbiamo un progetto di questo tipo e va avanti da più di un anno e mezzo. Senti, ti faccio la domanda duplice da una parte. Sicuramente se c'è effettivamente un fenomeno che ti è stato raccontato o che è stato raccontato da un fisico che poi dopo tutti questi mesi di lavoro effettivamente è stato, non so se si dice comunque, descritto matematicamente attraverso delle formule. E dall'altra parte se in questo momento, ma in realtà lo stavi accennando, c'è un fenomeno sul quale stai lavorando per arrivare a quella formula o quelle immagini insieme di formule che alla fine cercheranno di descriverlo al meglio. Tra i problemi grandi che non sono ancora stati capiti proprio da ogni punto di vista, anche dal punto di vista fisico, c'è questo problema della dissipazione di energia nell'oceano. Cioè il problema è il fatto che nell'oceano, insomma, l'oceano è qualcosa che è soggetto a diverse forze esterne, vuoi, insomma, maree, venti, eccetera. Ci sono delle forze a una certa scala, a una certa grandezza, che vengono iniettate all'interno, che iniettano energia all'interno. Però se uno lo osserva dall'esterno, l'oceano è più o meno un sistema di equilibrio su grande scala. Quindi vuol dire che questa energia in qualche modo viene dissipata. Ecco, allora, c'è una cosa all'interno dei fluidi che si chiama viscosità, che è una dissipazione, che è in qualche modo la difficoltà di uno strato di scorrere sull'altro, che dissipa energia. Però questa viscosità è misurata fisicamente, risulta essere troppo piccola per rispondere a questa domanda. E allora c'è una teoria che si chiama teoria della turbolenza di Kolmogorov, che dice che pare che ci sia una trasmissione di energia in questo modo. Cioè immagina che si parte da un vortice grande nell'acqua e questo vortice si divide in due più piccoli e piano piano ad albero, sempre più piccoli e più numerosi. Fino a che si arriva a una dimensione che è abbastanza piccola, tale che questa dissipazione ce la fa, è alla scala giusta. Però come avviene questo processo di cascata? Ecco questo non si sa. Né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista matematico. Quindi noi cerchiamo insieme, appunto alcuni con gli esperimenti, altri con le teorie, i fisici teorici, e noi anche con alcuni strumenti molto basilari, con dei model, direi, cerchiamo di vedere insomma delle equazioni in cui si vede questo processo di trasmissione di cascata di energia. Senti, invece qualcosa che alla fine è riuscito a essere dimostrato matematicamente, hai in mente un caso anche storico che ci aiuti a comprendere meglio? Allora sì, per esempio per quanto riguarda questi flussi stratificati, posso parlare di... Adesso sto lavorando su delle cose che hanno a che fare con questa cosa di cui parlo. Per esempio c'è una storia che riguarda un esperimento di un fisico che si chiama Orr, all'inizio del Novecento, che si occupava di capire la stabilità di alcuni tipi di flussi, adesso non entro nello specifico. Comunque il punto era che lui faceva questo esperimento e notava che c'era una certa instabilità. Stabilità vuol dire magari crescita del campo di velocità, cose del genere. Però poi con gli strumenti dell'analisi matematica del tempo, con la nozione di stabilità che aveva, sembrava fosse un paradosso, perché sembrava invece che il fluido dovesse essere stabile. Ecco allora, questa storia qui è stata risolta completamente, il modello completo è stato capito e dimostrato il fatto che in realtà è stabile in alcuni spazi e instabile in altri. Diciamo, l'esperimento risale all'inizio del Novecento, nel 1907 la conclusione della storia matematica risale al 2013. In realtà il motivo per cui non si capiva è il fatto che veramente servivano degli spazi, se vogliamo, strani, matematici, analitici, per cui se uno non avesse fatto i conti precisi in matematica, in analisi matematica, non si sarebbe mai risolto completamente. Cioè, proprio un esempio in cui, per esempio, l'analisi matematica non era soltanto un mezzo, oppure una volontà di essere precisi e dettagliati e mettere epsilon e delta a posto, ma era veramente necessaria per capire poi bene tutta la situazione. Senti, veniamo all'argomento che accomuna tutti voi ricercatori in questa rubrica, ed è la riflessione che ti chiedo sulla ricerca, il senso di fare ricerca, in particolare ricerca come la vostra, come la tua, ha una ricerca molto teorica, molto complessa, di cui all'inizio è difficile vedere risvolti pratici che tutti quanti ci chiedono. E poi, cosa vuol dire fare ricerca in Italia, in giro per il mondo, data anche la tua esperienza internazionale? Diciamo, per me il senso è veramente una questione di piacere. Cioè, è l'obiettivo della mia giornata arrivare a fare quel pezzettino che poi spesso la giornata dopo succede, in realtà si verifica che non è servito a niente. Penso che l'80% delle cose che facciamo non serva a niente, il 20% è quello che ci porta. Però il senso è, non lo so, è la soddisfazione un po' delle scalate, delle faticate. Dal punto di vista pratico, come ti ho detto prima, insomma, studio delle cose che poi hanno a che fare con queste interazioni con i fisici, possono dare spiegazioni su fenomeni che, insomma, dal punto di vista della meccanica dei fluidi, poi si applicano a livello ingegneristico anche a cose più pratiche. Adesso io, in realtà, nello specifico, non so neanche dirti, ho parlato di questi fenomeni un po' più, non lo so, non so come definirli, forse meno pratici, no? Questa storia della dissipazione, uno può pensare, vabbè, una spiegazione, se non ce l'abbiamo, insomma, viviamo lo stesso. Però, insomma, ha delle implicazioni anche a livello, ovviamente per quanto riguarda, non lo so, la meccanica dei fluidi, sta a livello ingegneristico in tutto, a partire dagli aeroplani, le imbarcazioni, quello che volete. Allora, io in realtà ho avuto una bellissima esperienza e mi ritengo abbastanza fortunata. Insomma, è molto bello, credo, andare in giro, a un certo punto più o meno si è costretti ad andare in giro per il mondo. Ho conosciuto delle persone che sono veramente contenti di fare questo, quindi di cambiare posto, paese, città, da un anno all'altro per i contratti di postdoc. Io personalmente no, non è una cosa che... almeno, insomma, prima di andarci l'ho vissuta veramente male dentro di me, poi in realtà quando l'ho vissuta è stata molto meglio. Quello che penso è che è un peccato che, diciamo, in alcuni casi le persone siano costrette, conosco delle persone che in qualche modo sono state autocostrette a cambiare strada, a un certo punto a lasciare la ricerca, perché c'era questa paura di non riuscire a tornare. Ecco, ovviamente il problema dei posti, soprattutto quelli permanenti in Italia, sta migliorando la situazione, secondo me migliora molto. Ci sono stati diversi posti anche quest'anno, non metto in dubbio, la derivata è sicuramente positiva. Spero che continui così, perché conosco persone che avrebbero fatto volentieri questo lavoro e invece, appunto, per paura di dover essere così un po' apolidi, hanno poi cambiato strada. Un altro punto sulla ricerca d'Italia, anche questo un po' negativo, diciamo, è un po' ha difficoltà di recepire un po' di più i fondi di ricerca e quindi limita un po' di più le interazioni. Secondo me sono delle cose che dovrebbero essere sistemate, perché poi invece da altri punti di vista abbiamo tantissime cose positive. Cioè, per esempio, quando sono stata in Francia ho notato che in qualche modo in Italia, nell'ambito della ricerca, il senso pratico della pari opportunità è una cosa più radicata. Cioè, io, per esempio, anche da donna non mi sono mai sentita discriminata, non voglio dire che altrove sia così, però anche a livello di formazione io sono un accademico adesso che non ha nessuna genealogia accademica, non ha nessun parente universitario e questa cosa, insomma, in Italia è una cosa secondo me abbastanza frequente e all'estero non sono sicura che sia così. Cioè, secondo me dovremmo cercare di valorizzare di più queste cose, siamo potenti da questo punto di vista, dovremmo cercare di essere più attrattivi perché non conosco tante persone che dall'estero cercano di venire permanenti, ma secondo me il motivo è che l'immagine che viene fuori certe volte è anche un po' troppo negativa, è un po' troppo distorta, ci sono invece delle cose secondo me molto migliori di altri posti da alcuni punti di vista. Senti, con l'immagine di la derivata positiva che ci hai detto poco fa ti ringrazio davvero di cuore, ti saluto, ribadisco Roberta Bianchini che oggi è ricercatrice all'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Piccone in seno al CNR a Roma, buon proseguimento del tuo lavoro in attesa di incontrarci qui a Milano in centrale speriamo presto. Grazie, grazie mille. Grazie mille.